Dopo due lunghissimi anni di attesa, arriva finalmente su PS4, Xbox One e piattaforme all-gen Destiny, sparatutto di Bungie ed Activision, che rappresenta l'avvio di un progetto decennale per il team che ha dato i Natali alla saga di Halo. Si tratta di una delle uscite più importanti dell'anno, che si presenta carica di aspettative e grandi promesse. Destiny è, prima di tutto, un viaggio alla scoperta di un mondo bellissimo. L'universo che il team di Esiato l'ha messo in piedi colpisce come una delle più elaborate fantasie sci-fi che si siano viste nell'ultimo decennio. Il viaggio ci porta dalle distese rugginose della Terra fino alle dune polverose di Marte, lasciando che a trascinarci sia la curiosità di scoprire cromatismi nuovi e architetture aliene. Peccato che manchi, a supporto del lavoro smisurato sul mondo di gioco, una narrazione forte, intesa e ben diretta, come ci si aspetterebbe di trovare in uno sparatutto tradizionale. I pochi dialoghi che punteggiano la progressione sono mal scritti e frettolosi, gli eventi corrono troppo rapidamente e sempre con il fiato corto. Ma del resto l'obiettivo di Bungie non è quello di raccontarvi qualcosa. Destiny, infatti, è una sorta di intimo gioco massivo online, che recupera la struttura dei grandi del genere e la mescola con l'ossessione per il loot dei migliori hack and slash. Abbandona anche la dimensione propriamente massiva, costruendo la sua offerta attorno agli strike team, piccoli gruppi di tre persone. Per apprezzare il titolo Bungie, comunque, bisogna sentire un certo trasporto verso un'impalcatura ruolistica fortemente orientata alla meticolosa ripetizione degli stessi compiti e delle stesse missioni, portata avanti con fede incrollabile alla ricerca di armi e armature esotiche, tesori rari e ricompense di fine quest. C'è da dire che la strada che porta al completamento delle missioni è comunque lunga e tortuosa, e vi terrà impegnati per molte ore, e anche che il multiplayer competitivo ha molto da dire ai patiti del frag online. Perché non dimentichiamoci che alla base di Destiny c'è di fatto un gameplay che porta la firma di Bungie. Il feeling delle sparatorie è qualcosa di sensazionale e unico, evoluzione diretta di quel gameplay che credevamo fosse stato sublimato dalla saga di Master Chief, e che qui trova invece una sua nuova perfezione. Il peso dell'arma, il modo in cui spara, la velocità nel prendere la mira, il movimento dei nemici. Tutto è al posto giusto, mentre un brivido di puro godimento videoludico vi attraverserà da ogni headshot andato a segno, ed il doppio salto aggiunge una nuova spazialità agli scontri. Da questo punto di vista Destiny è meraviglioso per come riporta l'attenzione sulla mobilità ad ogni costo, e per la sua capacità di costruire scontri tesissimi. Districandosi fra PvP e PvE, l'endgame si raggiunge in 20 ore abbondanti, portando il proprio personaggio al livello 20. In verità si può continuare, sia perché ognuna delle tre classi disponibili sblocca di fatto una specializzazione, che cambia in maniera radicale l'approccio al gioco, sia perché sugli oggetti rari compare un nuovo parametro, luce, che di fatto può alzare il nostro livello fino al 30. In ogni caso sarete comunque impegnati a rifare più e più volte le stesse missioni, o magari gli assalti infilati in apposite playlist, che vi permettono di giocarle in sequenza. Questa ripetizione quasi ossessiva è considerata da molti peccato mortale di Destiny, ma rappresenta a conti fatti la coda di un'esperienza che cresce molto bene nelle prime ore di gioco, e raggiunge solo alla fine questo apparente immobilismo. In verità i problemi dell'endgame sembrano riguardare soprattutto un drop rate davvero basso, che non riesce a dare ai guardiani le soddisfazioni che meriterebbero dopo un impegno tanto duro. Per fortuna, superando i problemi di bilanciamento, quando vi sentirete stanchi delle missioni assalto, potrete lanciarvi nel crogiolo. Anche qui, a fare la differenza sono i ritmi di gioco distanti da quelli compulsivi di un Call of Duty. Gli scontri a fuoco sono più tattici, ancora capaci di mettere in mostra le abilità del giocatore. Il comparto multigiocatore di Destiny resta un sogno per chi si sente orfano della trilogia originale di Halo, ma più in generale una proposta solida, in grado di funzionare perfettamente come contenute in game per chi raggiunge il level cap. Dal punto di vista tecnico, Destiny colpisce per la notevole pulizia del comparto grafico, in grado di supportare agilmente una draw distance notevole, senza rinunciare a effetti avanzati in termini di particellari e illuminazione. Il filtro anti-aliasing pulisce a dovere i contorni, limando molto le scalettature anche se non eliminandole del tutto. Le texture presentano nel complesso una qualità sopra la media. Resta su tutte l'enorme difetto di un ambiente statico, quasi distante dall'azione. La totale assenza di pur minime reazioni fisiche lascia leggermente turbati all'alba della nuova generazione, da ottimizzare anche i tempi di caricamento davvero troppo estesi. Ottime note anche per il comparto sonoro, con le eccezionali musiche originali composte da Martin O'Donnell, che si accompagnano a effetti credibili e pieni per armi e veicoli. Destiny è un titolo difficile da catalogare. È uno sparatutto eccezionale confinato in una struttura ruolistica che incrocia Diablo 3 a World of Warcraft, condita da una spruzzata del multiplayer made in Bungie. Manca una narrazione convincente per acchiappare i più tradizionalisti, e la struttura ha una sua ripetitività di fondo. Ma in sottofondo c'è un gameplay esemplare, tecnico e travolgente, che riesce a mitigare i difetti di gioventù e ci trascina all'interno di questo mondo ottimamente caratterizzato. È importante sottolineare una volta di più quanto la proposta di Bungie sia distante da quella di uno sparatutto classico. Si tratta di un MMO costruito attorno agli strike team, da giocarsi rigorosamente con amici, accettando le regole, i ritmi e l'iteratività degli RPG online. È questo l'elemento distintivo di Destiny, la ragione della sua ammaliante unicità. È questo il motivo per cui, per tanti giocatori, oggi non c'è posto migliore dove stare. Grazie a tutti.